Rapina studenti minacciandoli con un coltello all'esterno degli istituti scolastici. Nei guai è finito un 34enne arrestato dai carabinieri della stazione di Portici. I militari hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un 34enne gravemente indiziato del reato di rapina aggravato dall'uso di armi a danno di vittime minorenni. Il modus operandi era sempre lo stesso. L'uomo, previa minaccia armata mediante l'uso di un coltello, aveva intimato in dialetto napoletano in quattro diverse occasioni nel mese di aprile e ai danni di sei vittime, tutte minorenni, di consegnargli il proprio telefono cellulare, mentre queste stavano facendo ritorno a casa, percorrendo le strade del comune, subito dopo essere uscite da scuola. Le puntuali dichiarazioni rese dalle vittime congiuntamente alle indagini dei carabinieri mediante l'acquisizione e l'attenta consultazione del sistema di videosorveglianza cittadino hanno permesso di raccogliere un quadro indiziario grave. L'arrestato è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Poggio Reale, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.